La queen incontrastata è solo lei Beatrice Luzzi, al centro delle ultime dinamiche d'amore nel Grande Fratello. Benvenuti su Gossip TV, il tuo canale di riferimento per il gossip più intrigante e del reality più affascinante. Beatrice Luzzi è il nome che fa eco in tutto il Grande Fratello, con Massimiliano Varrese che ha fatto una rivelazione sconvolgente. Ma è davvero amore, o c'è dell'altro dietro questa storia? Scopriamolo insieme. Metti un like al video ed iscriviti al canale per nuovi aggiornamenti sul mondo del gossip e dei reality show. Beatrice Luzzi, già al centro delle cronache per una presunta cotta di Alex Schweitzer nei suoi confronti, si trova ora coinvolta in un nuovo capitolo della sua vita amorosa. È stato Massimiliano Varrese a confessare di essere oggetto dell'interesse amoroso dell'attrice. Ma c'è dell'altro dietro questa affermazione? Alcuni suggeriscono che potrebbe trattarsi di una mossa per danneggiare la reputazione di Beatrice, dato il rapporto teso tra i due concorrenti. E qui arriva il colpo di scena. Mettete un like al video ed iscrivetevi al canale per nuovi aggiornamenti sul Grande Fratello e We Are The Show. Perché sembra che Varrese stia architettando un piano per mettere in cattiva luce Beatrice, fingersi innamorato di lei, e farla ammettere i suoi sentimenti. Ma la sorpresa non finisce qui. Chi è il partner di questo crimine d'amore? È lui, l'insospettabile Ciro. Questo piano è stato discusso con Ciro, e sembra che Massimiliano voglia vendicarsi di qualche torto subito. Ma sarà davvero così? O c'è un altro aspetto nascosto di questa storia? Riusciranno nel loro intento? Vedremo, ma nel frattempo aspettiamo che i nuovi concorrenti si mettano in azione. Avete sentito dell'ex tronista di Uomini e Donne? La tensione è palpabile.